bene bene salve a tutti vincent warlike benvenuti nel mio canale e siamo ancora qua con gli avari sono andato avanti di semplicemente passato al turno successivo rispetto all'ultimo episodio quindi andiamo a vedere quindi siamo ancora alla fame una ribellione imminente in moravia allora gente scoperta costruzione completata il mercato del vino quindi gli introiti stanno arrivando molto bene adesso in qualche modo dobbiamo andare a recuperare dei soldi allora intanto portiamo qua questo esercito la furia dei carpazzi e poi gli mettiamo dentro anche questi uomini qua va bene questi uomini che tornano disfatti dall'italia intanto questo lo mettiamo quasi avaria ok andiamo a ripristinare le tasse in maniera corretta anche se andremo sotto adesso in qualche maniera dobbiamo andare a fare dei soldi da qualche parte qui siamo ancora un po logorati siamo un po logorati andiamo a vedere qua se c'è qualcuno in arrivo noi ci mettiamo qua perché voglio controllare cosa fanno queste due armate a questo punto direi di andare a vienna cosa c'è c'è di guarnigione 3 ok 6 a 39 andiamo a saccheggiare Vienna adesso per il momento la teniamo sotto assedio ok poi cosa possiamo fare cosa possiamo fare abbiamo dei soldi dobbiamo reclutare ancora delle navi ragazzi guardiamo se ce n'è qualcuna ok riprendiamo queste mercenari che sono più forti guardiamo nella diplomazia se possiamo ricavare dei soldi da qualche parte allora nella diplomazia guardiamo un po' allora lost faglia possiamo guardare di fare un trattato di pace si è alto quindi prendiamoci dei soldi prima eravamo onesti adesso siamo diventati disonesti però malgrado tutto dobbiamo monetizzare 3.300 è ancora alto 4.300 è basso quindi proviamo a chiedere 3.300 denari accettano bene va bene così guardiamo se la nord dal brinja nord dal bingja vuole fare un trattato di pace è basso niente altrimenti che abbiamo con le asturie un trattato di pace è basso va bene credo che per la quitagna equivalga alla stessa cosa ok è basso mentre tra i nostri vecchi nemici i lombardi i lombardi e basso mentre con la venezia basso anche con la venezia immagino che lo sia anche con la tema di sicilia a questo punto guardiamo accetterebbero un trattato di pace la tema di sicilia e che mi interessa quindi facciamo chiediamo anche dei soldi tanto credo che siano pace fittizie fini a se stesse quindi credo che lo facciano più che altro per sistemarsi accettano accettano molto bene per il momento ci tiriamo via delle balle un altro nemico ma credo che sia una questione solo momentanea non penso che non intendano attaccarci in futuro quindi quindi guardiamo questa nuova taifa di valencia un patto di non regressione moderato rifiutano guardiamo un patto di non regressione guardiamo di dargli due soldini ne chiedono 700 e noi ne possiamo offrire di meno 300 600 va bene dai proviamo a dargliene 600 dopo una diverse diverse contrattazioni nel momento non possiamo commerciare almeno non vogliono conversare con noi va bene guardiamo di portare al nostro ovile anche badajots a vedere se intendono diventare dei nostri alleati alleato difensivo e basso una partecipare alla guerra contro qualcuno no va bene al momento direi che possiamo accontentarci la bretagna non fanno nulla con nessuno non sono di guerra con nessuno però non credo vogliono fare qualcosa con noi va bene pazienza guarderemo poi allora intanto abbiamo fatto degli introiti quindi questo ci permette di tenere le tasse basse non guadagnare nulla nel prossimo turno va bene così possiamo andare ad aumentare qualcosa intanto possiamo riparare questo ok e aumentare qui richiede la sala dei re che dopo questa la sala dei nobili per andare a sbloccare qui quanto abbiamo ancora cosa stiamo facendo la corruzione sarà lontanissimi lontanissimi li vedo li vedo lontanissimi allora 8 ore di stoffa aumentiamo ancora il cibo via tanto questo ci dà anche della ricchezza dobbiamo aumentare il cibo la ricchezza questo cosa serve va bene il tempio dei cieli eterni ok dai rimaniamo così per il momento qua possiamo sbloccare questo ordine pubblico dov'è questo in moravia eh non è male questo qua è 1400 via spendiamoli ci dà ordine pubblico in moravia intanto qua direi di stare così andiamo ad aumentare immediatamente queste unità 500 ok si via che tutti devono avere l'armatura mentre andiamo a reclutare nuovamente delle navi ragazzi che reclutiamo delle navi eh 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 bisogna che lo facciamo però non volevo andare sotto però abbiamo delle costruzioni che tra un po' arrivano questo questo quello 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 là ci dà dei soldi e teniamoli via teniamoli così guardiamo di guardiamo un po' di monetizzare in qualche maniera a parte che questo qua al momento possiamo congedarlo via tanto è inutile risparmiamo dei soldi infatti volevo risparmiare anche un po' su su qualche agente che al momento è inutile risparmiamo anche sugli agenti e tiriamo via un campione però vabbè non dà costi di mantenimento quindi potremmo evitare però non lo sapevo quindi pazienza facciamo un salvataggio veloce e andiamo a passare il turno furia dei carpazzi va bene allora siamo sempre alla fame va bene adesso arriveranno portate pazienza assedio militare a vienna ok fazioni incontrate separatisti franghi va bene pronti al dovere manrot generale ok non ti preoccupare manrot che tra un po' arriveremo tanto guardiamo qua di tenerli un po' sotto scacco e portati un po' qui che voglio controllare che non ci siano eserciti in movimento guardiamo un po' guardiamo un po' va bene dai dobbiamo aspettare tutti questi turni qui nel prossimo turno entreranno cibo e denaro quindi non preoccupiamoci ok va bene anche qui l'ordine pubblico qua si sta un po' ristabilendo quattro turni e la rivolta vabbè cosa devo fare direi che dovremmo andare a scemare visto che ne mancano tre per fare questo che ci da ordine pubblico in più anche questo anche questo si potrebbe andare a aumentare facendo una città quindi potremo poi quando abbiamo i soldi aumentare la nostra città e dovremmo farlo presto allora guardiamo un po' cosa possiamo fare bene intanto la dama di sicilia si è ripresentata qua e non credo che venga qua per fare una gita sulla barca visto che ci sta mandando anche questo qua quindi ve l'ho detto era solo una pace fittizia tanto per sistemarsi andiamo a vedere un attimo se abbiamo qualche cosa da fare guardiamo se riusciamo a fare una pace con Nord dal Binge è basso Nord al Binge è basso con l'Aquitania basso ok con le Asturie guardiamo sempre tutto è basso con la Venezia con lo Venezian i Venezian il trattato di pace è basso con i Bavaresi e basso va bene ok con i Lombardi il trattato di pace è basso ehm allora andiamo da dai franchi e guardiamo di partecipare ad una guerra contro Lost Faglia torniamo in guerra con loro chiediamo 242 no ma che offri ok 300 è moderata guardiamo se 1.300 è moderata rifiutano vabbè allora partecipiamo a una guerra contro Lost Faglia e chiediamogliene 300 sperando che ce li dia no ci rifiutano anche 300 ragazzi eppure siamo affidabili adesso prima eravamo disonesti guardiamo partecipiamo a una guerra contro Lost Faglia e chiediamo 300 ai 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 il giochino non funziona più il giochino non funziona più guardiamo un po' sulla difensiva e con sto Lost Faglia qua cosa possiamo fare un patto di un'aggressione bravo un patto di un'aggressione basso e quindi facciamo una cosa andiamo dai franchi gli offriamo di partecipare alla guerra contro Lost Faglia in maniera del tutto gratuite e rifiutano rifiutano anche a gratis quindi a questo punto ragazzi chiediamo dichiariamo noi guerra alla spaglia loro sono amici sono amici dei sono alleati dei Nord Albini allora va bene dai chiediamo entriamo in guerra con loro no torno qua scusate torniamo in guerra con loro poi torneremo a chiedere la pace è tutto un gioco in deterioramento con la Provenza un accordo commerciale basso allora guardiamo un po' questa taifa di Valencia ci facciamo un po' di ci abbracciamo un po' in una fratellanza un accordo commerciale e ti do quello che ho al momento non vogliono accordarci un commercio allora accordo commerciale partecipa alla guerra contro vabbè non mi interessa questi papisti qua del cavolo non fanno nulla diciamo un miglioramento ma non ci riusciamo a ricavare niente partecipare alla guerra non gli interessa va bene ok niente questa volta non ci è andata bene però vabbè poi ci riproviamo ehh quindi direi di fare ehh che di fare di fare cosa possiamo fare se arriva anche questo sono cazzi amari veramente eh sono cazzi amari se arrivano anche questi allora dobbiamo attaccare qui mandarli via dichiariamogli guerra tanto è inutile non cambia nulla per noi ok ok attacchiamo qua 20 e 13 non so se andare in mare così posso riuscire posso riuscire proviamoci o ormai così andiamo via di qua allora ok dovremmo vincere dovremmo vincere dovremmo vincere facciamo una equilibrata vittoria di misura vittoria di misura oddio ok ehh leuterio muore mamma mia stiamo messi male 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 va bene va bene dai ritorneranno le navi le rifaremo allora intanto andiamo a segnare i i tratti alle nostre unità qua capacità di movimento va bene ok almeno se arrivano questi le lanci della verità possiamo fare qualcosa di meglio tanto questi non ci arrivano forse in marcia forzata facciamo un salvataggio veloce e andiamo avanti prima dobbiamo decimare un po' di gente come è solito i sopravvissuti del mare ok e avanti così va bene allora l'auguramento i maestri della guerra ok costruzione completata fattoria va bene ragazzi inizieranno arrivare dei soldi decimati decimati sviluppo ok grado aumentato per moon zook quindi andiamo subito a aumentare i gradi a moon zook e gli diamo predica l'intolleranza e scoraggia la popolazione ok va bene qui iniziamo a allogurare un po' questo esercito o no se ci riusciamo qui cosa abbiamo le lance le lance della verità ci sono delle navi disponibili no reclutiamo navi reclutiamo navi qui ci stiamo rimettendo a posto andiamo a selezionare una nuova tecnologia allora questo ci permette di aumentare l'imperium però dobbiamo fare qualcosa di meglio derivate delle incursioni cosa abbiamo da fare qua il cantiere navale questo cos'è che abbiamo lasciato indietro pressione fiscale ma che miseria non so cosa fare quelle città di ricerca 120 per cento in più 122 per cento 120 delle incursioni i giochi della cavalleria i giochi della cavalleria e che non so cosa fare allora attento teniamo sotto scacco la i bavaresi ma come stiamo andando pochino meglio eh pochino meglio va bene mettiamolo qua questo allora niente via passiamo nuovamente il turno facciamo un salvataggio veloce e andiamo avanti e andiamo a decimare c'è uno lì che ogni turno con una lancia una picca va lì e uccide quelli che stanno poco bene quindi andiamo avanti allora ribellione imminente di Moravia ancora eh interviene cos'è che vuole fare? la sposa è degna eh approviamo approviamola approviamo magari i migliori suoi tratti Inric intanto qua c'è un movimento in massa da parte dei lombardi con i suoi la sua la sua atrapia qua i beneventini quindi dobbiamo affrettarci affrettarci nel reclutare delle navi ragazzi non so se riusciremo a farlo in tempo mi sa di no questi quanti sono? sono veramente tanti e non ho idea di che forze abbiano lì dentro allora per fare questo dobbiamo per forza attaccare Vienna ma ci da ci da messi malissimo cioè e via proviamo in un'aggressiva ok vittoria pirrica vuol dire che siamo stati messi male 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 quindi saccheggiamo ragazzi al momento non mi interessa prendere mettiamoci qua e poi cerchiamo di reintegrarci abbiamo avuto delle perdite ok con questo esercito direi di stare qua al momento non mi fido dei bavaresi qui non possiamo fare nulla non possiamo andare ad attaccare tutta questa gente possiamo comunque reclutare delle navi se ci è permesso farlo allora guardiamo di fare così mettiamo fuori qua Okter lo schieriamo così possiamo reclutare più navi no solo per gli eserciti no solo per gli eserciti ma non sei dentro l'insediamento uno due tre eh bigger fleet bigger fleet è una merda schierato il prossimo turno si schiera il prossimo turno si schiera il prossimo turno si schiera quindi teniamo andiamo a reclutare della gente qua a questo punto dobbiamo reclutare ok va bene così allora faccio un salvataggio guardiamo un attimo la diplomazia prima di passare il turno andiamo Lost Faglia a fare un trattato di pace è alto ragazzi dobbiamo riprenderci soldi è moderato guardiamo accettano nuovamente grande Nord Albinja qua accettano un trattato di pace è basso va bene regno dei franchi ok questa taifa se volesse fare un accordo commerciale non ci tengono tanto a fare un accordo commerciale mentre un trattato di pace con il regno delle Asturie che sembra farsi avanti proprio verso la taifa di Valencia niente non interessa separatisti separatisti franchi separatisti galiziani guardiamo che cosa questi non hanno neanche un insediamento mentre separatisti franchi ce l'hanno ma non mi sembra il caso la Dema di Sicilia un trattato di pace non interessa un trattato di pace con i veneziani è basso ok uno con i lombardi niente da fare niente da fare ragazzi ehm nulla da fare allora guardiamo un po' guardiamo un po' taifa di Valencia facciamo il miglioramento ma non ci cagano Cordoba mentre l'altra dov'è? taifa di Badaichos ok di Badaichos Badaichos stiamo facendo qualcosa partecipare a una guardia niente non interessa contro la Sicilia è basso contro la Venezia è basso non interessa non interessa non interessa allora un accordo commerciale con Valencia ma non credo che dureranno tanto guardiamo di offrirgli dei soldi un 600 no 1.200 è sempre basso va bene niente lasciamo perdere ok quindi torniamo qua ma navi mercenari al momento non ce ne sono aiaiaiai aiaiaiai aiaiai qui abbiamo detto che stiamo reclutando ok reclutiamo ancora un po' allora a sto punto anche qui andiamo a migliorare il nostro esercito qua intanto abbiamo baffo d'argento bene prendiamo delle cavallerie ok va bene allora torno a fare un salvataggio che porta fortuna passiamo nuovamente il turno maestre della guerra vanno decimati ok e andiamo avanti allora qui il ducato di benevento ci viene ad attaccare ma sinceramente non è niente di che questo esercito noi siamo un po' logorati va bene ma guardiamo un po' cosa abbiamo qua la guarnizione e le nostre navi siamo un po' logorati ma ce la possiamo fare direi proprio di si perché visto che loro non è che abbiano delle grandi unità facciamo un salvataggio rapido qua e andiamo in battaglia allora eccoci qua questo è lo schieramento diciamo che sto chiudendo questa linea dall'attacco della cavalleria in più loro hanno questi onagro che ci tirano fino a casa fin dove arriva questo qua arriva fino lì beh fortunatamente non arrivano i nostri uomini intanto faremo scendere le navi aspetteremo l'esercito di rinforzo iniziamo la battaglia quindi scendi veloce facciamo scendere qua le nostre navi attraccate ragazzi guardate all'orizzonte rinforzi dai non facciamo il giro tondo eh ragazzi per piantare giusto due navi allora intanto entrano i nostri uomini bene iniziamo a farli correre avanti avanti uomini andiamo a distruggere immediatamente il lionagro no ho spostato anche quelli la cazzo vabbè cazzarola dai cazzarola il nemico sta attaccando il nostro generale dai attaccate qua ragazzi veloci la torre è ormai un mucchio di cenere va bene allora i nostri arcieri portiamoli dentro alla nostra città veloci ah altre cavallerie alle spalle ragazzi altre cavallerie alle spalle quindi andiamo a distruggere qui intanto mamma mia questo non l'avevo visti eh questi non l'avevo proprio visti la battaglia sta volgendo il nostro favore dai su ragazzi veloci veloci mamma mia mamma mia i nostri uomini hanno gettato le armi e se la dando a gambe andiamo a tirare un po' la eh beh tirate sta cavalleria qua prima che vi faccia fuori del tutto va cavallerie pesanti tirate questa cavalleria pesante qua ma i nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia che spettacolo vergognoso del Warriors mamma mia avanti qua ragazzi avanti qua avanti, 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 avanti Uomini il loro generale è morto dai su 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 corriamo ragazzi corriamo i nostri uomini se la stanno dando a gambe avanti vai vai a tirare qua all'onagro senza paura avanti 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 cacciamo via queste cazzo avanti ragazzi avanti andiamo a prendere posizione via di qua la cavalleria ok portiamo qua tutte le nostre cavallerie da tiro le unità nemiche sono alle mura allora avanti su mettiamoci in formazione ragazzi correre correre so che siete stanchi tornate dentro voi il nostro generale è morto un altro generale è morto dai non ci credo nulla è perduto ragazzi non è ancora nullo perduto possiamo farcela copriamo qua la nostra cavalleria di arcieri la portiamo qua fuori ok anche te fuori di qua va bene vai ad eliminare questo portiamo a casa questi lancieri questo cos'è una cavalleria molto pesante va bene tirategli ragazzi tirate quella cavalleria pesante qui tiri infocato dai avanti ragazzi avanti ecco che cadono tutti cadono se cadono ragazzi siamo messi bene ok ok vai vai smazzate un po' di gente qua portiamo qua la nostra cavalleria dai che è quasi fatta tiratela in mezzo ragazzi dai tiratela in mezzo nel mucchio andiamo anche loro a tirare così cadono vai vai che stanno cadendo vai che stanno cadendo dai che andiamo a pigliarli vittoria ragazzi adesso vado avanti ad ammazzare tutta questa gente ci vediamo subito dopo ok bene questa volta abbiamo una vittoria eroica finalmente ogni tanto abbiamo perso solo 567 uomini questa è una ottima notizia cacciamo i beneventini le nostre navi sono un po' danneggiate vabbè pazienza allora abbiamo perso i nostri generali e quindi logicamente andiamo a prendere nuovi generali quindi prendiamo Merrot ah solo Merrot va bene ribellione immoravia maledizione ucciso in battaglia Kipska deceduto va bene ok fame ancora fame ancora alla fame un'altra volta dove è la ribellione in l'esercito ribelle vabbè adesso andremo a farlo fuori andremo ad occuparcene siamo caduti ancora un'altra volta nel spire del cibo mancante quindi andiamo a riparare tutto un'altra volta ragazzi solo che perdiamo un insedimento perdiamo cibo andiamo a reclutare una nave no non possiamo va bene allora risistemiamoci ah questi sono quelli che ho appena reclutato molto bene nuove navi per noi tè torna qua dentro supporta l'esercito bene allora questi ribelli qua dobbiamo andare a eliminare immediatamente quindi ci andiamo con la furia dei carpazzi fuggono ma non tanto lontano schieramento eliminiamo e la ribellione in Moravia viene sedata ok quindi tornate a Ptuge immediatamente anche in marcia normale visto che allora 22 vabbè questo va bene 12 quindi l'ordine pubblico si sta andando a stabilizzare molto bene te lavora e te lavora ok andiamo a un'altra volta a saccheggiare Vienna ragazzi dobbiamo farlo qui gli eserciti dove sono sono ancora là mi sembrerebbe che non si vogliono muovere da là diamo un'occhiata che non ci sia qualcuno qua nell'ombra direi di no andiamo a saccheggiare Vienna ragazzi saccheggiamola velocemente saccheggia saccheggia affaticamento da guerra è diminuito vai è andato via l'affaticamento da guerra grande ragazzi grande torniamocene a casa nostra allora ci torniamo a mettere in fortifica non possiamo vabbè ci mettiamo allora ci teniamo qua appoggiati a queste poche unità anzi quasi quasi lo mettiamo dentro e via poi andiamo ad aumentare le abilità del nostro generale io direi di andare verso cosa possiamo fare la campagna velocità di movimento in battaglia mi interessa questo non possiamo farlo allora andiamo un po' verso l'astuzia anche va bene autorità i soldi stanno calando però vabbè adesso pian pianino adesso poi rimettendo a posto giadra che ragazzi continua a resistere questa è veramente una rocca forte portuale per noi nessuno fino ad ora è riuscito ad entrare a giadra e a conquistarla fortunatamente altrimenti questo sarebbe stato l'ingresso per il nostro inferno quindi vorrei vedere che le armate da qui una volta conquistata giada potrebbero scorazzare all'interno delle nostre insediamento come equivale anche qui per Aquilea ma al momento sembrano stabili le situazioni almeno speriamo che lo siano andremo poi a vedere nel prossimo turno se qualcuno può accettare un trattato di pace fare qualcosa per monetizzare e per non avere troppi nemici in modo da poter poi aumentare le nostre economie e andare avanti anche qua in pannonna vediamo che possiamo aumentare un po' gli insediamenti adesso non saprei se aumentando un po' la pressione fiscale si possa ridurre un po' sembra che l'ordine pubblico vada stabilizzandosi anche in questo caso anche se teniamo le tasse molto alte quindi proviamo così almeno per non andare troppo sotto va bene vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti